In 5 spiagge pugliesi sono stati trovati 2.306 rifiuti e il dato di un'attività condotta da Lega Ambiente. Domina la plastica con il 69,2% del totale degli oggetti recuperati. Sentiamo. 5 spiagge pugliesi monitorate e 2.306 rifiuti rinvenuti. È il risultato dell'indagine Beach Litter realizzata dai circoli locali di Lega Ambiente. L'iniziativa accompagna spiagge fondali puliti, la campagna di Lega Ambiente dedicata alla tutela del mare che anche quest'anno vedrà volontari ripulire dai rifiuti spiagge e arenili nel rispetto dei protocolli anti-covid. Intanto le aree oggetto dell'indagine sono state la spiaggia di strada del Baraccone a Bari, Calasusca a Monopoli, la spiaggia Marchese di Marugio in provincia di Taranto e nell'abatte la spiaggia sul lungomare Cristoforo Colombo, Belvedere, direzione via Valerio a Margherita di Savoia e Boccadoro nella costa nord di Trani. Tra i rifiuti rinvenuti domina la plastica seguita da carta, cartone, vetro, ceramica, legno, metallo, tessili e gomma. Tra gli oggetti più trovati invece tappi e coperchi, pezzi di plastica e polistirolo, reti o sacchi per mitili e ostriche, mozziconi di sigarette, stoviglie, usaggetta, cotton fioc, bottiglie di vetro e frammenti di carta. Non mancano guanti, usaggetta, mascherine e altri oggetti utilizzati durante l'emergenza sanitaria. È dal 2014 che i volontari di Legambiente effettuano il monitoraggio dei rifiuti sulle spiagge del Mediterraneo, dando vita ad una esperienza di scienza partecipata e ricerca scientifica condotta dai cittadini. I dati raccolti sono comunicati all'Agenzia Europea dell'Ambiente che ha l'obiettivo di creare un database sui rifiuti spiaggiati.